Gli operai del comune di Foiano questa mattina presto hanno lavorato allo smontaggio del tradizionale presepe di cartapesta, allestito in piazza alta, nell'oggiato di fronte al municipio. Le statue, realizzate dai quattro cantieri del Carnevale, sono state riposte in un fondo vicino alla piazza. Come ogni anno lo riponiamo insomma nelle nostre stanze qua sotto alla piazza. Il prossimo anno ci saranno nuovi personaggi, sempre grazie all'aiuto dei cantieri del Carnevale, con i quali stiamo anche facendo altri progetti. Tutto ovviamente dipende da come andrà questo anno, però diciamo che ci sono progetti importanti, sia con l'Associazione Carnevale sia con l'Associazione Cantieri per abbellire sempre di più il nostro paese. Oggi, in tempi normali, sarebbe stata una giornata importante per i foianesi, poiché lo smontaggio del presepe avrebbe aperto ufficialmente il periodo carnevalesco. Questa era una staffetta, il momento dello smontaggio del presepe, tra l'altro di cartapesta, quindi comunque legato al Carnevale, era il passaggio dal periodo natalizio a quello carnevalesco. Ovviamente con le nuove normative il Carnevale ad oggi non può essere fatto, così come tutti i grandi eventi, però stiamo lavorando, stiamo lavorando come comuni, insieme all'Associazione Carnevale, insieme all'Associazione Cantieri per trovare una soluzione. Non sarà facile perché ovviamente ci sono tanti strati da combattere, quindi dall'emergenza, poi la logistica, tutto quello che riguarda le restrizioni, però insomma ci proviamo, l'Associazione Carnevale lavora costantemente a più tipi di soluzioni e quindi vediamo cosa proporrà.